Cavalli agli ordini dello starter, partiti, terza corsa in programma, premio Enci, Memorial Professor Bernardo Meloni. Viene disarcionato il fantino di Solarina con i cavalli che affrontano i primi 300 metri di corsa dove è scattato al comando su Tarocca, su Tarocca nei confronti di Summer Breeze che si è portato in seconda posizione, su Tarocca che affronta al comando la prima piegata con Summer Breeze a tallonarlo da vicino. Dall'esterno progredisce solo 2-2 che ha in scia la giuba di Selva del Monte Acuto, questo il quarteto con il numero 1 Sorunessa, gruppetto compatto a metà della retta opposta con Summer Breeze che rompe gli indugi e si porta a condurre Summer Breeze solo 2-2. Terza posizione è Suttarocca che cerca varchi interni, all'esterno Sorunessa che progredisce in caccia dei due fugitivi, si porta in terza posizione all'esterno del quale viaggia Selva del Monte Acuto. Metà della piegata conclusiva Summer Breeze richiamata alla frusta nei confronti di solo 2-2. Con all'esterno Selva del Monte Acuto, tre cavalli in linea, si presentano addirittura Summer Breeze all'ostecato, attaccato all'esterno da solo 2-2. Progredisce Serbona all'esterno di tutti, attacco deciso da parte di Sorunessa. Sorunessa che tende a passare con Serbona all'interno, Sorunessa che passa, Sorunessa, Serbona, Sorunessa è passata, Sorunessa che prova lo stacco definitivo. Sorunessa e Pasquale Salis vengono a vincere sul numero 7, Serbona, al terzo posto conclude il numero 3, Summer Breeze, si attende l'ordine.